Allora ragazzi, ci siamo lasciati l'ultima volta e se ben vi ricordate avevamo vinto 3-0 contro Wysla, che adesso non mi viene il nome, Cracovia lì, avevamo vinto 3-0 con un gol, un assist, poi non mi ricordo così, un gol e un assist e un rigore procurato, quindi uomo partita proprio per forza. Adesso c'è il ritorno a casa loro, non dico che è una formalità per carità, però comunque possiamo stare abbastanza tranquilli, direi subito comunque un gol di farlo, così almeno chiudiamo il discorso e boh. D'altro mi è arrivata una mail e dice che la partita Milan-Juventus del 13 settembre è stata spostata al 12, merda, vabbè, io speravo arrivassero un po' più tardi le partite decisive come questa, però vabbè. Quindi direi di iniziare immediatamente con la partita di Europa, dopodiché ho visto comunque la prima partita di campionato è contro il Chievo, adesso non so se si vede o non si vede, fa niente, sarà contro il Chievo, quindi un esordio abbastanza normale. Ebbene ragazzi, Europa League, Wizzla-Kracovia, il ritorno, abbiamo un vantaggio di tre gol, abbiamo giocato in casa adesso, siamo a casa loro, se facciamo un gol siamo più che tranquilli, non sarebbe male. Attenzione, forse si riparte. Sì, grandissimo, bello passaggio, bello, 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 vai provettoni, vai provettoni, vai provettoni, vai provettoni. No, cazzo, la stavo passando in mezzo. Buon angolo, dai. Bello. Attenzione. Niente da fare, peccato. Attenzione, uh, che bel passaggio che me l'aveva fatto, cazzo. È che avevo già chiesto il filtrante mentre me la stava passando, non volevo che magari la passasse, quindi ho tirato così, l'avrei piazzata, eh, volentieri anche. Attenzione, buco in mezzo, buco in mezzo. Ed è gol! 0-1, pravettoni la piazza. Ho tirato di precisione, l'ho piazzata perché non mi fido, certe volte mi fa certi scherzi. Bene così, 1-0, anche perché mi servono i tiri di precisione, eh. Adesso che ci penso. E' finita ragazzi, siamo penso qualificati, teoricamente. Una bella vittoria per loro, una bella soddisfazione è quella di poter continuare il viaggio. Ma qua dice continuare il viaggio, ma teoricamente siamo qualificati. Sono tipo i play-off questi. Ok ragazzi, si comincia. Si comincia la prima partita di campionato contro il Chievo. Non so se l'allenatore mi farà giocare, visto che... Comunicazione nazionale d'Italia. Aspetta, volevo solo avvisarti che ti ho inserito nell'elenco dei convocati della squadra d'Italia per la prossima partita del torneo di qualificazione. Campionato europeo. Ah, Chie sarà campionato europeo. Eh sì. Vabbè, ti teremo in contatto con i rappresentanti della società Milan per stabilire quando ti daranno permesso di unirti a noi. Non vedo la divertita di disposizione se mi arresto dalla squadra. Attenzione, ci giochiamo già in nazionale. Che spettacolo ragazzi, che spettacolo. Bella così. Allora, ci si tratta di una formazione... Ah sì, ok. Sono già... Sono titolare contro il Chievo. La prima di campionato ragazzi. E quindi si inizia a fare sul Seri in Italia. Sul Seri in Italia. Intanto scusa, fammi vedere un attimo il calendario. Voglio un attimo capire. Se dobbiamo ancora giocarci qualcosa. Eh sì. No. Ah no, no. Questo qui abbiamo vinto. Ok, a posto. Europa. Ah, fase G... Siamo già nella fase Gironi. Infatti siamo in Europa League nella fase Gironi. Bella così. Bella così ragazzi. Intanto... Ah, ce l'ha Juve. Attenzione, è una delle prime... La seconda. Poi subito l'Inter. Eh, vabbè dai. Dittemelo che mi volete male. Poi la Lazio. Sono tutti all'inizio. Ma che cazzo. Meno giusto la famiglia ambientale un pochino. Vabbè dai. Bene ragazzi. Si comincia. Non sono proprio in formissima. Ma si comincia. Attenzione, potrei già prendermi un cartellino giallo. Attenzione. Era bella. Questo fa capire che si fa già sul sere. Ecco, già ammonito. Bene così. Bene così. Arbitro, sei uno stronzo. Potevi aspettare anche. Bene. In vantaggio finalmente. Rigore. Eh, calcio di rigore. Subito si procura il rigore pravettoni. Cioè dovrei batterlo io. Dai cazzo. Fatemelo battere a me. Cartellino giallo. Stavo crossando in mezzo in maniera perfetta. Vorrei batterlo io magari. Dai. Sei sempre lui. Che palle. Meno da Provercelli li battevo io. Dai Nino Torres. Ah no, ma altri che batte. Scusate, ma altri che batte. Oh. Sei una merdo. No, no, dai. Stiamo scherzando. Mica centralissima. Cazzo stavo andando a fare gol io. Solo che vabbè. Stavo 25 minuti per stoppare la palle. Quindi niente. Dai. Bella. Ed è gol. Bella assist. Questo è il mio assist cazzo. Questo è il mio assist. Questo è il mio assist. Bella così. Vai onda. Insegna a matri come si segna. Mi raccomando. Bella onda. 1-0. Bene così. Bella. No cazzo. Credevo uscisse il portiere. Rigore. Un altro rigore. Un altro rigore che mi procuro io. Vorrei batterlo io però stavolta. Possibilmente. Sai com'è no? Eh ma io ho sbagliato. Cioè dovevo andare a fare gol io. È solo che ho sbagliato che dove uscisse il portiere. Avevo già pronto il dribbling per saltarlo. Chi è che batte? Non vedo chi è. Non sono io. Che palle. Non mi cerci. Mi fai battere me cazzo. Il secondo rigore ti procuro in una partita. Madonna. L'ho visto malissimo. Guarda. Ho visto malissimo. Bello. È fuori gioco sì. Ah no. 0-3. 0-3. Attenzione. Saponara. Io credevo che era fuori gioco. Ho fatto un tiro. Un tiraccio. Ah no. Il gol. Attenzione. 0-3. Non si capiva bene. Ah fanculo. Va. 0-3. Nessun gol. Ma meritavo. Meritavo almeno un gol. Un calcio di rigore da battere. Almeno meritavo 9 in pagella. Visto che tutti i gol li hanno fatti grazie a me praticamente. E vabbè. Mi danno solo 6 e mezzo. Vabbè. Andiamo con la prova.